Joseph Mone Channel presenta, Preghiera per ritrovare la serenità. Universo, mi sento ansioso, agitato e sopraffatto dagli eventi esterni. Questi generano in me squilibrio interiore. Che tu possa indicarmi la strada e farmi ritrovare uno stato di pace. Io ti aiuterò, cercando di vivere qui e ora, e respirando profondamente con gratitudine, per tutto quello che ogni giorno mi doni.